È stata presentata ufficialmente nel corso della riunione d'inizio stagione sportiva la rosa dei giocatori del Borgo Rosso-Telentino che prenderà parte al prossimo campionato di Serie C2. La società Biancorossa ha deciso di dare continuità al progetto iniziato l'anno scorso, confermando alla guida della prima squadra Mr. Andrea Renzuia e con esso quasi tutto il gruppo reduce dalla straordinaria stagione passata, culminata con la promozione in C2. Sul fronte mercato estivo, dopo l'arrivo di Matteo Nunzi dall'US Tolentino, si aggiunge alla rosa anche Roberto Feroce, classe 95, proveniente dal calcio con esperienze passate in varie società locali. Non ci sono invece sostanziali novità nell'assetto societario. Riconfermate tutte le cariche è nominato nuovo direttore sportivo Claudio Marinelli, il cui compito sarà quello di curare i rapporti tra gli atleti, lo staff tecnico e la società. Nel corso della serata, il presidente Michele Borri e il vice Silvano Ronconi hanno salutato tutti i giocatori intervenuti e presentato ufficialmente i nuovi acquisti. È intervenuto anche Mr. Andrea Renzuia, che ha presentato ai giocatori il suo piano di lavoro, chiedendo la massima collaborazione e impegno di tutti, con l'inizio della preparazione atletica fissato per il 19 agosto e la prima gara di Coppa Marche il 5 settembre. Il campionato invece partirà il 20 settembre.